Direi che ci siamo ragazzi per iniziare Allora ragazzi, dobbiamo fare in modo che grazie a questo video vengano tolte piste con i soci e penso che sia una cosa piuttosto impossibile, però ci proveremo Iniziamo da Bahrain, il Bahrain che conosciamo tutti Dunque, voi vedete bene, sì? Confermate che vedete bene? Le piace, è una bella pista che sicuramente ha regalato delle belle emozioni poi tra l'altro, ragazzi, ricordiamoci Bahrain 2009 con la prima fila tutta Toyota Timo Glock, Yarno Trulli Fantastica, davvero una bella cosa, ecco Poi quell'anno Toyota si ritirò Ed è un male non aver Toyota in Formula 1, credetemi Come pista, perché più che sufficiente Secondo me questa è una delle piste, una delle ultime piste fatte Fatta secondo me meglio Quindi per me una B tutta, tutta E riguardo i gran premi che ci sono stati, sappiamo Bahrain 1 è stato protagonista all'incidente di Grosjean Più di tutti, sappiamo cosa è successo con Russell non Russell È una pista che sinceramente non è da Formula 1, non è più la Formula 1 che conosciamo La Formula 1 ci ha abituato nei primi anni 50 a correre nelle 500.000 di Indianapolis Io vi dico sinceramente che non mi è dispiaciuto come pista Solo che non mi piace vedere la Formula 1 che sta sotto al minuto È già successo e c'è l'Austria che sicuramente è un circuito dove sfiorano il minuto Però ha un settore centrale fatto bene Qui si tratta di avere tanti avvallamenti che sicuramente rendeva tutto più complicato Però non mi sono piaciute tante cose di questo Gran Premio in generale Io sono più per la D Che per il C Per il C, per la C Io direi D Alcuni di voi dicono C Quindi cicono Ci, non dicono Oh Baku, Baku non c'è stata quest'anno E Baku ha sollevato tante polemiche nel 2016 Quando è stata annunciata comunque nel 2016 E poi ha debuttato nel 2016 Ma devo essere sincero Essendo un cittadino Essendo che la pavimentazione è quella che è Quindi fa fatica a ammarsi dalla pista Rende tutto più complicato Le barriere sono veramente dietro l'angolo Più che barriere i muri È una pista bella Baku, secondo me è una pista bella Soprattutto la zona del castello Ok Dici, tanto lì non puoi superare Sì, ma come si vede Basta avere le gomme un pochino più fredde del solito E vai lungo E c'è una piccolissima via di fuga Ma se tu provi a curvare Vai a fare alla fine Di tanti piloti che hanno fatto la Che hanno fatto quella pista Che hanno fatto quella brutta esperienza Di andare a sbattere contro le mura del castello Credo che sia veramente fatta bene Anche nel gioco è divertente da guidare Raggiunge di velocità folli Quando l'hanno annunciata Hanno annunciato quel terzo settore Veramente incredibile Ero scettico Però non l'hanno fatto male Non l'hanno fatta male Io vi dico che Baku Per me è da B di Baku Allora Questa tier list comprende circuiti dal 2011 Fino al 2020 Ok Quindi c'è anche addirittura un manicure Che ho visto di sfuggire da qualche parte Quindi Ne abbiamo, ne abbiamo, ne abbiamo A proposito di piste Dimenticate dal signore Questo qui è il Booth International Circuit E il circuito indiano Dove Seb dominò Pesantemente Ecco E questa era una pista bella Partiamo dalla curva 1 Curva a destra Quasi secca Dovevi cercare di stare In uscita della curva 1 Più sul cordolo possibile Quindi di sinistra Perché la curva dopo Era un tornante In salita Ma quando arrivavi alla salita C'era una piccola zona piana C'evi il tornante E poi ti lanciavi per un rettilineo Enorme Gigantesco Che alla fine di esso Con il DRS attivo e tutto Si apriva poi proprio la carreggiata Si apriva la carreggiata E permetteva di infilarsi all'interno Non è male Anche il curvone meravigliavo Che è questa qua Questa zona qua Il curvone meravigliavo verso destra Era spettacolare Era quasi pendente Era spettacolare Sinceramente questa pista L'ho amata parecchio Io dico Add to calendar Dai Invece che essere Metto add to calendar Perché Non è nel calendario Facciamo così dai Catalunia Oh Questo è un problema Spagna Non molto a dire sul Gran Premio Perché Il Gran Premio del 2020 È stato uno dei peggiori A tutto quello che serve Curve lente Curve veloci È una pista stretta però Che non permette errori E questo è un pregio Il fatto che non ci sia l'asfalto In uscita delle curve Eccetto In uscita delle Sì Delle curve Eccetto Curva 1 Curva 3 E basta Anche la terza ultima A parte quello È una pista vera Ancora Non da Formula 1 Nel senso che Non c'è divertimento La metto in D Sono stato un po' più cattivo Austin Introdotta nel 2012 Ricordo che ci furono problemi Con le gomme Mi sembra che fosse Perché Non riuscivano Ad avere abbastanza grip Fecero Tanto fatica I team A farle funzionare Le gomme Austin Mi fa schifo Ci deve essere l'erba Ci deve essere la Ci deve essere qualcosa La prima curva Ah sì È carina Perché c'è la salita E poi c'è la discesa Montagne russe Ma siamo in America Poi c'è la S Ci sono le S Che ricordano Maggot E Beckett E tutto Boh Certo Chi mi vincitore Questo non lo metto in dubbio Ma io metto F Allora A noi due A noi due Io vi posso dire Che come pista Vista nell'eSport Mi annoia Non l'abbiamo vista Nella realtà Mi piace tanto La curva Due Che Va 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 Quindi Ti deve largare Ti deve largare Ti deve largare E poi però stringi Subito Per una curva quasi cieca Io vi dico D Vi dico D Perché da guidare Davvero non è male Gli darei una possibilità Nella Formula 1 reale Ma non si sa Non si sa Se ci sarà l'anno prossimo Okinaim L'hanno rovinata Con L'eliminazione Della parte dei boschi Quella Quella che conosciamo L'ho rivalutata Io ho sempre preferito Però il Nordbook Ring Ok Io la metto In B Ungaro Ring Questa Pista Ora Non facciamoci distrarre Distrarre dal fatto che Potrebbe piovere In Ungaro Ring Ah comunque la pioggia Ancora attesa In Ungheria Quest'anno Pioggia tra 5 giri C'è una sezione Che mi piace particolarmente Che però odio E che La curva Immediatamente Dopo il primo settore Quindi quella sinistra Veloce Mamma che fatica Questa qua Questa fa veramente Veramente paura Come curva Prendi il taglio O interno O in esterno Almeno una volta Ogni tre O una volta Ogni due Per un discorso Di calendario Non calendario Io non la vorrei Nel calendario Perché non si passa A meno che non la facciano Ghiacciata O bagnata Non la posso mettere A livello di queste tre La metto A livello C Oh arriviamo a Imola O San Marino O Emila Romagna Come cavolo La vogliamo dire noi Oggettivamente Vabbè soggettivamente Perché puoi imparare personale Per carità Però non ci siamo divertiti Così tanto Oh Imola come minimo A O ti fai nemica In mezzo a Italia No una A Una A certa Sono per A Per una certa Non vi dico Add to calendar Perché Ne metterei troppe Io direi A E' divertente Ma è difficilissimo Da passare Mamma se è difficile Da passare Mamma mia Se è difficile Passare Imola Bravo Con l'accento sulla A Il voto che abbiamo dato Interlagos S S Arca miseria Non è add to calendar Perché resterà fino al 2025 Nel calendario Interlagos ragazzi E' una pista spettacolare S sta per super S S Minimo 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 Ragazzi E' una pista meravigliosa Però Per tante ragioni Però E' incredibile Succedono sempre tantissime cose In questo gran premio Turchia Add to calendar Ero piccolino Quando Piccolino Avevo 9 anni fa 16 anni Quando non l'hanno più Messa nel calendar Dopo il 2011 Io Io piansi Quasi ricordo Perché Era una delle piste Più belle In assoluto Da affrontare Nel videogioco Era una delle piste Più belle Da vedere Ma perché Era una proprio 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 Al limite La curva 8 Una volta faceva Una paura bestiale Era bella Corea O meglio Pac-Man Questa qui Ragazzi Per chi non lo sapesse È una pista Che ha debuttato In form 1 Nel 2010 E Ha smesso di essere Nel 2010 Nel Si nel calendario Dal 2013 Dal 2014 Quindi 2013 Incluso La pista La pista Pac-Man Non era brutta Io sinceramente Mi piaceva veramente Un sacco La trovavo veramente Di gran gusto Io amavo la sezione Dopo la curva 3 Quindi la sezione Del piccolo rettilineo Più sinistra Destra-sinistra Perché erano Tre curve Da 90 gradi Addirittura La prima In realtà Era da 180 gradi Inclinate Ed erano Wow Cioè La prima era inclinata Ed era wow Fantastica È una pista fantastica Una B di incoraggiamento Magnicour Magnicour Che pista clamorosa Che pista clamorosa Magnicour Porca miseria Che pista clamorosa Magnicour Quanto mi piaceva Allora Allora Iniziamo Curva 1 Pieno Curva 2 Pieno Curva 3 Curvone leggendario Verso destra Lungo rettilineo Che ti arrivava Che finiva tutto Con un tornante bellissimo Dove ti infilavi Buttavi fuori l'antena E poi S La S La prima S La seconda S Ah Questa è una cosa spettacolare Dove cazzo è Por Riccardo Che metto Z Via 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 Cos'è sta musica Pam Paraparapam Pam 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 Add to calendar Io cambierei volentieri L'Australia Al bed park Con Philippe Island L'isola di Filippo Il problema è che Philippe Island È un po' stretta Per la formula 1 Però La metto in C È comunque meglio Di queste Di queste Di queste Di queste Indie La mettere in C E ora arriva La Monza La Monza Messicana Perché se voi ci fate caso Ora Guarda un po' È praticamente capovolta Rispetto a Monza Messico Messico nel videogioco È da F Ma non per Messico In generale Perché Codemaster Non si è degnata Di risolvere Il sistema Dei tagli Di mettere Dei dissuasori Fatti Bene Messico era una pista Fantastica Ho giocato Su setto corsa Nella prima versione Del Messico Era wow Pazzesca Pazzesca Di recente Rimasto Soltanto Il rettino Principale Ma si Usciva Dall'ultima Curva Con una parabolica Praticamente Ed era una cosa pazzesca Io Per la zona dello stadio Li metto una bellissima B Oh Monaco E questa ragazzi È una pista Che sicuramente Vi vedrà Sì e no Odiata e amata Da tutti Per esempio I primi video commenti Sono stati F S Ecco Vi ho detto Se la vediamo Da un punto di vista Di un pilota In qualifica È una pista Che va oltre L'S Ok Se la vediamo Da un punto di vista Di un tifoso È una pista Che va Il sabato Sull'S Sulla S A domenica Va su F Bisogna trovare Un attimo La La quadra Solo perché sono Troppo larghe le vetture Ma una volta anche Non è che facevano Tante cose 20 anni fa Coulthard ci mise Metà gran premio Per superare una vettura Che andava a 5 secondi Più piano Gara è noiosa Ma Da vedere Lombard è clamoroso Io Perché è in Monaco È la storia di Monaco Il secondo Gran premio della storia Della Formula 1 E per chi guarda il rec Lo sa Metto S Perché era Era una pista È una pista difficile È una pista Delle due facce Moral io la metto in S Perché è una pista Spettacolare È una pista Seppur cittadina Semi cittadina Regala Spettacolo A Go Go Ed è un piacere Vedere ogni volta Un gran premio lì Monza o Monza Avevo fatto un video riguardo Ma si dice Monza O Monza Io dico Monza Era un ovale una volta Era una pista È una pista Completamente differente E A contrario di tantissimi detrattori È una pista con le palle È una pista dove ci vogliono Veramente le palle Arrivi a 350 km Non è facile Giro dopo giro Azzeccare la variante 1 Azzeccare la variante 2 Azzeccare le entrate in Ascari Azzeccare la Non è facile Non è facile Mugello Maronna Rocarmine Via via Madonna Datemi Mugello Per favore Cioè Ok Ovviamente È stretta Per la formula 1 È tutto Ma In un'ottica 2022 Magari Qualcosa potrebbe cambiare Però Ma quanto è È stato bello Vedere i piloti Andare così tanto Rasser alla casa nuova Se avessi l'impieno Sullo sterrato Una pista Dove C'è l'erba Dove c'è la ghiaia Alla fine Appena dopo Il cordolo No È pazzesco Pazzesco Mamma mia Non so se c'è nel calendario L'anno prossimo Nurel Ruegring Nel caso la metto in S Se non c'è La metto in altro calendario Un'altra pista secondo me Incredibile Quella del Nurel Ruegring Parti in alto Arrivi in basso Al tornantino In discesa Sali per l'S Schumacher Sali ancora per una Curva sinistra Ceca Destra Che ti mette in un mini rettilineo Un mini allungo Che ti porta poi a una chicane Super stretta E poi Curva 1 Incredibile Oh Policard F Portimao Add to calendar Assolutamente Non ci sono Non ci devono essere Spiegazioni ragazzi Austria A di Austria O B No Austria è storica Anche questa Ed è bella Austria è bella Ragazzi È facile Sembra Ma a parte centrale Non è facile Il fatto che vadano così tanto veloce Effettivamente Fa cacassotto E fa Generare degli errori Ed è una pista che non perdona Se tu fai un errore È una pista Secondo me Da A Sì Sì Secondo me È da A A qualcosa in più Secondo me Malesia Malesia è una delle piste più belle Introdotte negli anni 2000 Io vi dico Mettere in calendario Ovviamente F Sta per Fuori dal calendario Cioè Ok Facciamo Ok Stiamo così Malesia Malesia è una delle piste Storia Ma me l'hanno Secondo me Parzialmente rovinata Perché La Silverstone Che conosciamo Fino al 2010 Era incredibile Prima era fantastica Era veramente Veramente Fantastica Però Avete ragione Anche voi Mi avete fatto ricordare Che c'è una zona spettacolare Che non può andare Sotto qualcun'altro Bagotts e Beckett E Chapel Sono Curve della Madonna Singapore Singapore Per chi non lo sapesse Pochi di voi In realtà Non lo sanno Tutti lo sapete È una pista Che io amo Particolarmente Da guidare Per me è una delle piste Più Belle È difficile superare È impossibile superare Ma quando si supera In questa pista Che ricorda Una Una Baku Dal punto di vista di Vai fuori Muro Quando si supera Si fanno delle cose clamorose Uno dei surpassi più belli Che ho visto In questi ultimi Dieci anni Sicuramente Nella top 3 È quello di Massa Su Senna Sfilippe Massa Su Bruno Senna Mamma Questo è È stata Pazzesca Come manovra Quella Vi consiglio Vi prego Andate a vedere Adesso quel video Dovete andarlo A recuperare Dovete andare A recuperare Quel video È stata anche La prima gara Di notte In notturna Non è da S Perché le piste Sulla S Sono di un altro livello Lo so Come di voi potranno dire È una blasfemia Metteremo Insieme a Singapore Questo è quello Che penso io Sochi Peccato perché curva Curva 3 Curvone lunghissimo È bello A favore Out of Out please Basta Vabbè Sì vabbè Beh ragazzi S Ragazzi Spy Suzuki Chi dice cose Contro Spy Suzuki E io Io Avevo fatto un video Dove dicevo Sì Spy è bellissima Ma Perché a me Spa non piace Tanto da guidare Sapete Non lo so Non mi piace Tanto da guidare Ma È Clamorosa Valencia Ragazzi Che pista Anche questa Cazzo Valencia Abbiamo visto Uno dei campioni Più belli Degli ultimi anni Spa Valencia 2012 E abbiamo visto Purtroppo Anche uno dei Gran Premi Più noiosi Della storia Due Gran Premi Noiosi Nel 2011 Infatti È stato l'unico Gran Premio E anche Il record Per piloti Arrivate al traguardo 24 su 24 E il 2009 Invece è stato Uno dei Record più brutti Ovvero Soltanto due Sorpassi effettuati Nel corso Del Gran Premio Del 2009 Due sorpassi Erano Della BMW Sauber Che Si erano Superati Per gioco Di squadra Per me È bella È bella A livello Di Singapore No È peggio B Perché ha qualcosa In più Rispetto a un'Ungheria E a una Melbourne Abu Dhabi Out Non è malissimo Ma poteva Ma poteva essere Fatta decisamente Meglio Perché avevano Tutta la possibilità Di fare un circuito Come volevano Quindi per favore Out Please A Zanfurt C'è la Gaia Sì Zanfurt Secondo me È spettacolare Da vedere Peccato che Non l'abbiamo vista Quest'anno Però No Ve la metto in B Ve la metto in B Non Non A Non A Ma B Ecco qua Ragazzi Quindi Tecnicamente Nel calendario ipotetico Di Amos Avremmo San Paolo Monaco Montreal Monza Nürburgring Silverstone Spa Suzuka Imola Austria Singapore Bahrain Baku Okanheim Corea Valencia Messico Zanfurt Ungheria Melbourne Bahrain Mountain Circuit Outer Circuit Barcellona Hanoi Eeeh Scherzavo Non lo so Ho cambiato idea Eeeh Cina Quindi 23 piste Cazzo Poi troppi I piloti mi ammazzerebbero I piloti di Formula 1 reale Perché Ad calendar 1 2 3 4 5 6 Eeeh Perché ho fatto Ho fatto così E sono arrivato a 6 Ma se sono 6 Dovrebbe Comunque 6 piste In più Quindi Totale di 29 Piste In un calendario Dunque Ragazzi Mi viene da fare una cosa Logicamente quello che andremo a fare Questa è la tier list Per le piste out 29 sarebbero le piste del calendario Di Amos Laurito I piloti mi verrebbero a cercare sotto casa Per Chiaramente logica Andremo ad eliminare Melbourne Ungheria Bahrain Spagna E Cina Per un totale di 24 piste Nel calendario Vogliamo fare come la formula 1 reale Ok Quindi Dovremmo andare anche Ad alternare circuiti come Okina E Germania Perché sono Nello stesso Stato Imola E Mugello E Italia Bisognerebbe alternarli O meglio San Marino No Quindi Mugello E Monzas Sarebbero sicuramente Da D'alternare Per un totale di 22 gran premi All'anno Direi che va bene Ah io solamente Scambierei Austin E Valencia Va bene E voi ragazzi di Youtube Invece Quando vedrete questo video Che cosa dite? Fatemi sapere Qualcosa qui sotto Dunque Ci vediamo presto Con un altro tier listo Comunque Live su Tweets E video Chiaramente su Youtube Perché si fanno anche i video Non è che